Il settore delle piccole e medie imprese della zona euro risente anch'esso della crisi. Gli ultimi rilevamenti mostrano che per la prima volta negli ultimi due anni, nel quarto trimestre del 2011, ci sarà una contrazione della crescita. Le piccole e medie imprese del nord-est italiano registrano un boom dell'export, ma anche per loro le previsioni restano negative.